da lì corsa monza una bella novità degustare un prezioso liquore nato dall'infusione di delicate foglie di tè di origine orientale in acqua calda insieme ad un cocktail dai sapori marcati miscelato dai barman del locale l'idea è di Gabriele Viola Boros in collaborazione con l'esperta di tè Francesca Natali si inizia con la preparazione del tè lasciandolo in infusione in teiere di ghisa dove le foglie di tè per 5 minuti ben scanditi da una clessidra si srotonano lentamente rilasciando l'aroma nell'acqua nel frattempo il bartender prepara in modo meticoloso il cocktail i due liquori sono serviti in bicchieri doppia camera secondo la tradizione europea partendo con piccoli sorsi intervallati da altri più caldi del liquore di tè si essaggia successivamente il cocktail e solo ritornando nuovamente al calore del tè si scopre l'armonia, la complessità e tutta la gustosità celata nel cocktail che si scopre l'armonia, la complessità e l'armonia, la complessità e l'armonia che si scopre un bel vore all'armonia, la complessità e l'armonia Grazie a tutti.